Ciao ragazze, allora come promesso vi faccio il tutorial di questo modulo che vi ho mostrato oggi nelle varie pagine di facebook non cominciare, metti a fuoco, eccolo qua in realtà è qualcosa di veramente semplicissimo sono praticamente quattro moduli uniti tra di loro poi dai cipollotti 4x3 però come vi dicevo non ero molto convinta e quindi ho deciso di farvi questa versione che non è che cambi molto però mi convince un po' di più ecco qua, perché l'orecchino solo così a me non convinceva quindi ho voluto fare un altro modulino su mi dispiace per le colorazioni che non si vedono molto bene comunque è bianco dorato e poi ci sono queste perline viola e mi piace molto, molto carino ho intenzione di fare un bracciale con questi quattro moduli quindi fare 4-5 di questi moduli grandi e ho intenzione anche di fare una collana magari con i moduli singoli e poi fare un modulo più grande al centro comunque allora vi farò vi mostrerò come realizzare il singolo modulino poi questo modulino qua e poi vi faccio vedere l'assemblaggio del tutto ok partiamo subito materiale rocaille 11.0 di due colorazioni e perle da 4 mm la monachella e allora io in questo modulo qua ho utilizzato le miyuki qui invece ho utilizzato le toho secondo me il modulo è più stabile con le toho però comunque viene bene anche con le miyuki probabilmente qua io sto usando queste miyuki bianche che non sono molto regolari quindi sono queste che destabilizzano la lavorazione perché quelle dorate sono abbastanza regolari ma queste bianche non tanto e l'ho notato proprio in due bustine comprate in due posti diversi per cui sarà proprio una caratteristica di quelle bianche non so comunque cominciamo subito allora facciamo prima di tutto il modulino quello piccolino allora prendiamo sul lago 4 rocaille 11.0 chiudiamo a cerchio chiudiamo a cerchio e facciamo i soliti nodini non ci vedo niente comunque ecco qui spero di riuscire a farvelo vedere ecco qua adesso fuoriusciamo da una rocaille qualunque prendiamo un'altra 11.0 di quelle bianche e ci inseriamo nella rocaille successiva niente di più semplice e facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroviamo praticamente si è venuta a formare questa stellina adesso in questo spazio usciamo dalla 11.0 sporgente prendiamo due 11.0 di quelle dorate quindi della seconda colorazione due due ce la faccio stasera ecco qua e ci inseriamo nella rocaille 11.0 sporgente successiva dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro ecco qui adesso dobbiamo uscire da una rocaille dorata quindi tra le due rocaille dorate non voleva proprio mettere a fuoco stavolta allora quindi abbiamo detto che tra le due rocaille dorate dobbiamo mettere altre due rocaille dorate quindi una sorta di rimbon e usciamo dalla rocaille dorata successiva in questo spazietto mettiamo una rocaille bianca ed entriamo nella rocaille dorata successiva quindi tra le rocaille dorate mettiamo altre due dorate invece dove sotto abbiamo la rocaille bianca mettiamo un'altra rocaille bianca ecco qua come ci ritroviamo adesso cosa facciamo tra le due rocaille dorate quindi in questo spazietto mettiamo una rocaille dorata e ci inseriamo nella rocaille dorata successiva invece in questi due spazi uno e due mettiamo una rocaille bianca in ogni spazio quindi inseriamo una rocaille bianca e ci inseriamo nella rocaille bianca sporgente in quest'altro spazietto mettiamo un'altra rocaille bianca e rientriamo nella rocaille dorata successiva qui mettiamo sempre una rocaille dorata e ci inseriamo nella dorata successiva in questi due spazi mettiamo una bianca e un'altra bianca tra le due dorate un'altra dorata poi bianca poi bianca bianca dorata poi ci resta l'ultima parte bianca e bianca ecco qua adesso dovete fare altri quattro modulini in questo modo allora ragazze scusate la visuale ma è l'unico modo che per farvi capire bene il passaggio da fare adesso vi disponete i quattro modulini in questa maniera in modo da non sbagliare dovete fuoriuscire da questa rocaille dorata quella dell'apice prendete una perla da 4 mm e vi inserite nella rocaille dorata del modulino successivo quindi questo qui prendete un'altra perlina e vi inserite nell'apice di questa di questo modulino vedete come si uniscono prendete un'altra perlina e vi inserite in questa perlina qua un'altra perlina e vi inserite nell'ultima quindi la prima dalla quale siamo usciti tirate e si viene a creare questo modulino adesso ripassate più volte all'interno di queste quattro perline anche delle rocaille dorate e una volta rinforzate il tutto fuoriuscite da qui praticamente da una rocaille centrale che si incontra con il modulino successivo perché dovremmo andare ad aggiungere una perla qui una qui una qui una qui e una qui ecco qua abbiamo rinforzato il tutto adesso io sto uscendo da questa perlina quando uscite dalle perline dovete fare in modo di uscire dovete fare in modo che il filo vada verso il modulo successivo non dovete uscire dalla perlina così ma così quindi state attenti al giro che fate perché si può sbagliare facilmente allora ecco qua noi usciamo ce la posso fare se metti a fuoco magari ok sto uscendo da questa perlina qua inseriamo una perla da 4 mm e ci inseriamo qui adesso attraversiamo tutte queste perline usciamo da qui e ne inseriamo una qui una perla da 4 mm facciamo tutto il giro e ne inseriamo una qui e una qui poi possiamo tagliare il filo anzi no perché c'è la solina da fare questa qui quindi non tagliate il filo ecco qua allora adesso fuori usciamo dall'apice quindi dalla rocaille di punta quella 11.0 dorata prendiamo 4 rocaille 11.0 e ci inseriamo dalla parte opposta della stessa rocaille ok io giro il lavoro per comodità adesso fuori usciamo da una rocaille delle 4 appena inserite inseriamo un'altra 11.0 dorata dove caduta bene e ci inseriamo nella rocaille dove sono nella rocaille subito nella rocaille successiva un'altra rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille successiva un'altra rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille successiva ecco qua che il modulo è finito adesso facciamo adesso ripasserò un'altra volta all'interno della solina faccio il nodino e chiudo il lavoro e adesso andiamo a fare anche l'altro modulino ecco qua allora adesso facciamo il tutorial di questo modulino semplicissimo di sicuro è qualcosa di già esistente però siccome vi faccio vedere l'orecchino così per intero magari qualcuno potrebbe chiedersi perché non mi fa il tutorial del modulino su e quindi lo facciamo e ci togliamo il problema allora prendiamo 4 perle da 4 mm chiudiamo a cerchio nodini fuoriusciamo da una perla qualsiasi e in ogni spazio tra una perla e l'altra inseriamo una 11.0 dorata ecco qua di tutto sta succedendo stasera ecco qua poi ritagliamo il filo e facciamo questo per tutto il giro dopodiché ci ritroviamo ad uscire da una rocai dorata ecco qui come ci ritroveremo allora fuorisciamo da una rocai dorata inseriamo due rocai bianche una dorata e due rocai bianche e ci inseriamo nella rocai dorata successiva e lo facciamo per tutto il giro allora ecco qua abbiamo circondato le nostre perle adesso fuorisciamo da una rocai dorata inseriamo sull'ago un'altra rocai dorata e ci inseriamo nella rocai dorata dell'archetto successivo vedete che stringendo si va a chiudere tutto in avanti prendiamo un'altra rocai dorata e ci inseriamo nella rocai dorata dell'archetto successivo ancora e tirate bene il filo un'altra rocai dorata e ci inseriamo nella rocai dorata dell'archetto successivo e tiriamo l'ultima e ci inseriamo nell'ultima rocai dorata del giro tirate bene e vedrete cosa esce fuori vedete adesso ripassate all'interno di tutte le rocai dorate dopodiché fuoriuscite da una rocai dorata della base ecco qua adesso fuorisciamo da una rocai dorata e quello che dovremmo andare a fare è quello di andare a congiungere questo modulino con questo qui quindi cosa facciamo inseriamo tre rocai dorate eccolo qua allora ci inseriamo nella rocai dorata dell'apice e tiriamo il filo vedete altre tre rocai dorate uno due e tre e ci andiamo ad inserire nella rocai dorata successiva dalla quale siamo partita vedete vedete si è andata a congiungere il modulo adesso prima di rinforzare questa parte qui fuorisciamo da questa rocai perché qua si va a congiungere qua dobbiamo fare la solina per la monachella quindi fuorisciamo da questa rocai dorata ecco qua adesso facciamo qui la solina io la faccio così inserisco tre rocai indice la monachella chiudo bene se no poi fuoriusci il filo la monachella così e altre tre rocai 11.0 e mi inserisco nella rocai dorata successiva vedete adesso ripasso all'interno di questo modulino qua per rinforzare sia l'attaccatura con il modulo sotto sia la la solina per la monachella allora ecco qua che i nostri orecchini sono pronti mi piace tanto il modulino perché con pochissimo materiale e modulo semplicissimo si può creare veramente di tutto comunque niente adesso vado a letto mi do un bacione pensavo di fare anche questa volta un tutorial facile invece non l'ho stato per niente perché si è rotto il filo è caduto il tablet sono cadute le perline un macello comunque sono contenta di aver condiviso con voi questo progettino spero mi piaccia se non avete capito qualcosa nei passaggi perché è possibile mi contattate tranquillamente e niente vi mando un bacio e vi auguro la buonanotte ciao